Questo torneo è stato, per quanto ho giocato, molto bello, perché è sempre bello stare in un ambiente di giocatori di altissimo livello. Ho giocato la mia prima partita contro il mio compagno di club, mi è dispiaciuto un po' giocare contro di lui, però sono riuscito a vincere in due set, anche se è stata una partita molto bella. Poi ho giocato contro un coreano, lui è stato, ho perso la partita, 21-16, 23-21, peccato per il secondo set perché ero avanti 20-17, quindi ho avuto due match point importanti. Mi dispiace perdere questo torneo così, con questo vantaggio che avevo nel secondo set, però sono contento perché è sicuramente un'esperienza che mi serve per i prossimi tornei. Tornerò in campo per il doppio, con lo stesso compagno di club che ho giocato in singolo la mia prima partita di qualificazioni. Giocheremo contro due ucraini, molto bravi anche loro, noi proveremo a dare il nostro meglio e vediamo. Obiettivi per il 2019? Riuscire a essere nel miglior ranking junior, facendo tornei solo di alto livello, come gli Italian International Junior che si terranno qua a Milano. Spero di fare anche esperienze senior così, insieme ai miei compagni più grandi, tipo Rosario, Fabio.